Gli studenti della Scuola Media Carducci, geometri per un giorno. Grazie alla collaborazione con l'Istituto CAT Notolini e ai professionisti del settore, i ragazzi si sono esercitati con droni e misurazioni nel giardino degli osservanti. È la fase più operativa del progetto Game CAT 2.0, ideato dal Collegio dei Geometri della provincia di Lucca. L'iniziativa sta coinvolgendo gli alunni di diverse scuole del territorio che, dopo alcune lezioni in aula e la sperimentazione sul campo con gli strumenti del mestiere, arriveranno ad elaborare una proposta per la riqualificazione di un parco pubblico. Tra gli aspetti più innovativi del programma, l'utilizzo del popolare videogioco Minecraft Edu, che permette ai giovanissimi di imparare divertendosi, e il metodo di educazione tra pari, studenti delle medie e delle superiori, che consente lo scambio di competenze e conoscenze, favorendo al contempo la crescita personale e l'autostima. Questa è una didattica attraente per loro. Rispetto alla classica lezione frontale, li coinvolge maggiormente, e quindi l'apprendimento diventa significativo. Al tempo stesso può dischiudere loro un orizzonte formativo nuovo. Conoscono una professione in una maniera laboratoriale e quindi è importante che si facciano attività come questa.